Promozione dell'igiene delle mani in occasione della giornata del 5 maggio 2014. Ah, brutti germi opportunisti! Vogliono farla da sovrani! E camuffati da turisti? Li trasporti sulle mani. Ma tu blocca il loro viaggio, con il gel o col lavaggio. Igiene mani. Cinque momenti, un impegno collettivo e costante. Per l'igiene delle mani, diffondiamo la cultura, non i germi.